Quando parlo con gli autori spesso chiedo loro quali sono le paure che li attanagliano di più e di solito dopo avermi riferito l'ansia di non essere pubblicati e l'ansia di non essere letti salta fuori l'ansia di non riuscire a scrivere. Nome in codice, blocco dello scrittore. Ma la questione è, esiste davvero questo benedetto blocco dello scrittore o è una paura fantasma dietro la quale si cera qualcos'altro? Grazie a tutti.